La vigna didattica nei Giardini Reali anticipa la sesta edizione di Vendemmia Torino, Grabs in Town e Portici Divini. Il progetto rientra in una rassegna più ampia, in programma fino al 7 novembre, sostenuto dalla Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, per far conoscere i tesori enologici e celebrare i più importanti vitigni piemontesi. Sperimentazioni che fanno del nostro territorio un centro sempre più importante nell'ambito vitivinicolo e che permette di far conoscere quelle che sono le peculiarità invidiate da tutti, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura. La vigna didattica nei Giardini Reali vuole valorizzare tutta quella che è la cultura del territorio piemontese, del vino e della vigna. È una modalità per far conoscere tutte le iniziative che facciamo e per unire la città con la campagna. È quindi una modalità per lanciare vendemmi in città, Grabs in Town, Vendemia Torino e Portici di Vini, che è un'iniziativa che tutti gli anni abbiamo, composta da tantissimi eventi, l'anno scorso oltre 300, che riguardano degustazioni, cene, visite in cantina, tutto quello che voi desiderate con una app che vi guida. potete trovare veramente tantissime iniziative per conoscere il nostro vino, il nostro territorio e scoprirlo qui con noi. Insieme a una città che è anche parte di un'associazione mondiale delle vigne in città, con la vigna a Villa della Regina, e che porterà il vino e la cultura del vino piemontese in tutto il mondo.